Dagli Stati Uniti due notizie sul mercato del lavoro. La prima riguarda il settore privato che ha creato in dicembre 215.000 nuovi posti. Il dato è superiore alle attese di analisti che scommettevano sulla creazione di 140.000 posti. La seconda invece riguarda le richieste di sussidio di disoccupazione. La scorsa settimana sono aumentate di 10.000 unità.